C'è bisogno di incentivi economici, ambulatori, gratuiti all'interno dei comuni, bonus e rimborsi per far sì che i medici di medicina generale prendano servizio nei paesi dell'entroterra, nelle zone montane, nei centri al di sotto dei mille abitanti. In Abruzzo mancano più di 200 medici di famiglia perché negli ultimi mesi, a causa dei pensionamenti, intere comunità sono rimaste senza un punto di riferimento, ma insieme all'UNCEM abbiamo elaborato una proposta di legge da sottoporre alla Regione che consentirà di risolvere il problema. E' quanto afferma la TG8 il segretario della FIMG Abruzzo, la Federazione dei medici di medicina generale Mauro Petrucci, parlando dell'iniziativa messa in campo insieme all'Unione Nazionale dei Comuni, Comunità e Enti Montani. Solo nella Aslanciano Vasto Chieti mancano 40 medici, la carenza non riguarda soltanto i piccoli comuni delle aree interne, ma anche delle zone urbane, tra cui le città di Vasto e Chieti. I comuni montani abruzzesi sono 224, su un totale di 305, di cui 133 hanno meno di 1000 abitanti. Sono numeri che rendono bene l'idea delle criticità sul territorio. La Regione è chiamata a stanziare dei fondi ad hoc per evitare che i residenti restino sia senza medici di famiglia che senza pediatri. Abbiamo pensato che in questo discorso potevamo inserire anche delle premialità e degli incentivi per i giovani medici che venivano convenzionati e che magari anziché scegliere di andare in un'area urbana, a fronte di questi incentivi potrebbero andare nelle aree interne. Si è pensato che possono avere una copertura per tre anni, rinnovabile a tre anni, perché noi prevediamo che la gobba pensionistica che sta determinando questa carenza dei medici nel giro di 5-6 anni, secondo le proiezioni del nostro ente pensionistico Empan, si andrà ad esaurire. Quindi fra 5-6 anni dovremo tornare a regime tra il numero di laureati, tra il numero di specialisti e le esigenze delle carenze. Quindi gestire e governare questo breve periodo con degli incentivi che vanno appunto sia da una remunerazione tipo economica, ma anche magari con dei punteggi per le graduatorie, dando dei punteggi maggiori rispetto a chi va nelle aree urbane e quindi magari dopo 3-6 anni, se loro vorranno, potranno anche trasferirsi nelle altre aree e quindi però nel frattempo creare le opportunità di convenzionamento in queste aree interne.